Allora, io mi chiamo Jacopo Bargellini e parlerò oggi del management di una startup design oriented. In realtà non abbiamo molto tempo, ci vorrebbe un corso intero e poi sono più che altro degli spunti di riflessione. Però visto che da alcuni anni collaboro con Banca Intesa come panelist, quindi nella selezione delle startup che poi arrivano qui in fondo, ho notato alcune cose che vorrei sottolineare e prendo spunto a un libro che ho scritto recentemente che si chiama Costruire un'azienda design oriente di 12 principi del design management. Allora, questo libro l'ho scritto sostanzialmente perché di solito quando si parla di design, si parla di design, nel senso che si parla sempre di prodotto e quindi specialmente il tessuto italiano, cioè della piccola e media impresa, quando la piccola e media impresa decide di orientarsi al design, pensa subito a fare un prodotto e si dimentica di tutto quello che c'è intorno. Quindi facendo una metafora, considerando l'azienda come una nave in mezzo al mare, nel momento in cui si vuole orientare al design, punta subito all'isola del design. Eventualmente punta all'isola della tecnologia, però spesso, paradossalmente, si dimentica, per esempio, di avere un brand forte o comunque di costruirlo o comunque di occuparsi già dall'inizio di quello che sarà il proprio brand, quelli che saranno i valori, spesso non ha individuato una vera opportunità di mercato perché non ha fatto una ricerca sufficientemente avanzata. Difficilmente si trova ad avere una piattaforma di misurazione con i concorrenti reale o comunque verosimile. Anche su dove si posiziona chi è il proprio cliente, cioè tutti elementi abbastanza basici. Non è detto che abbia fatto una ricerca sulle tendenze, quindi magari il design su cui si lancia è il design del nome noto, ma in realtà magari quell'azienda non fa più tendenza, quindi non siamo ancora aggiornati. Per non parlare spesso della comunicazione che viene considerato, alla fine facciamo un dépliant, e della distribuzione. Ora, questi sono problemi che ho constatato anche, ed è per questo che parlo qua oggi, nelle idee di start-up che molto spesso sono attaccate al prodotto, all'idea che è venuta, passatemi il termine, allo start-up paro, e che quindi poi alla prima selezione, anche se il prodotto è il migliore del mondo, non si può andare molto avanti. Allora, perché di solito questo avviene? Perché chiaramente il design è il più visibile degli elementi di un prodotto, quindi comunque è quello che colpisce. Per cui, in generale, quando uno si vuole orientare il design, ha un'idea, gli viene un'idea, la vuole vestire, che poi non è questo il design in realtà, vedendo il design in generale, che può essere grafico, può essere product, interni, può essere packaging, può essere architettura, l'idea è, quell'azienda ha successo perché ha fatto un design di successo, in realtà l'idea è il contrario, cioè l'azienda ha implementato una politica di design manager in tale, per cui il prodotto è quello giusto e ha successo perché rientra in una logica che, a monte, è molto più complessa di quello che sembra. Allora, il libro è organizzato in maniera molto semplice, in dodici principi, proprio perché voleva essere un po', diciamo così, un manuale all'americana, nel senso, con delle cose di buon senso tutte insieme, piuttosto che il solito libro che mi racconta la storia del design manager, il posto che ce ne sono pochi, però adatto all'università, quindi è un libro per lavorarci, non è un libro per l'università. Non parlerò di tutti i principi, il primo dice il design è importante, il design management è più importante. Ecco, questa secondo me dovrebbe essere la prima regola che dovrebbe avere in mente o chi intende avviare una start-up o chi ha già un'azienda e voglia orientarsi al design, perché senza questo il primo ha poco senso. Allora, una definizione un po' accademica, che cos'è il design management? L'implementazione di una strategia di design coerente con gli obiettivi aziendali, quindi abbiamo già messo insieme quella che è la creatività con quella che è la gestione aziendale. Giusto per fare un esempio, prendiamo Audi, chiaramente non è una start-up, ma notiamo subito che il suo design ha un certo significato, chiaramente non è l'unico significato che ha, ma al di là della forma, tutte le Audi si assomigliano, francamente ogni tanto anche troppo, ma il discorso è, fidelizzo il cliente fin da giovane, adesso con l'A1, e poi piano piano lui mi compra la A3, la A4, la A6, e quindi la politica di design management ha un significato anche da un punto di vista strategico di quello che è il cliente. Altre marche invece hanno delle auto che vanno bene o per una fascia di età o per una fascia di prezzo, e quindi non necessariamente tendono a fidelizzare il cliente. Un altro degli aspetti interessanti di Audi è che il design è sempre molto avanzato, però non è mai troppo di moda, per cui se fate caso, altre marche dopo 5 anni sono, la macchina è vecchia, si vede che è un modello vecchio, l'Audi solito tiene anche molto bene sul mercato, quindi comunque questi sono due elementi, per esempio, che legano molto bene il design ha una strategia aziendale. Quindi, per finire la definizione, il design è più visibile delle leve strategiche usate per aumentare il valore del marchio, che poi il design aumenta il valore del marchio, il valore del marchio aumenta la penetrazione del design, e quindi è un circolo virtuoso. Sembrano delle cose abbastanza banali, sarà anche vostra constatazione il fatto che sono pochissime le aziende che lo fanno, o comunque che lo sanno fare bene. Arriviamo alla start-up. Allora, intanto diciamo che, come parola, la start-up è un po' abusata, almeno in Italia, come spesso usiamo le parole un po' così in maniera superficiale, cioè, in generale, la fase di start-up è la fase di avviamento di un'impresa, no? Quindi l'avviamento di qualunque impresa. Una definizione per start-up design-oriented. Un'impresa in fase di avviamento che si basa su un'idea forte, se non addirittura unica. Ecco, questo è il suo punto di forza e, come dicevo prima, il suo punto di debolezza, perché nel momento in cui la start-up si basa su un'idea molto forte, uno pensa che l'idea forte sfonderà in ogni caso. È legata, se è di design o sviluppo in un prodotto innovativo di design, e ai servizi a esso connessi. Considero una start-up design-orienta legata comunque a un prodotto finale, quindi non solo a un servizio sul design, ma a un prodotto che poi magari ha dei servizi connessi. Allora, il secondo principio dice che il primo passo è stabilire i passi. Ecco, questo è molto importante perché la start-up è un fatto di passi, nel senso che deve decidere quali passi fare e se chiaramente fa i passi falsi, visto che si tratta poi di investimenti, o non avrà gli investimenti, oppure rischierà di bruciarli. Allora, facciamo un parallelo aeronautico con una quota, quindi un'altitudine e un tempo. Ci sono aziende, le aziende normali, diciamo, che vengono fondate, incominciano a partire, decollano come un aereo commerciale, le aziende che le collano come un aereo militare, e la start-up che tendenzialmente dovrebbe decollare come un razzo. Questo, anche perché se questo è lo schema tipico del finanziamento e dello sviluppo di una start-up, c'è la famosa valle della morte che deve essere superata, quindi un po' come la forza di gravità che deve essere superata dal razzo, e poi la crescita deve essere molto rapida. Infatti anche qui abbiamo visto dei tempi molto ridotti, no? L'ultimo abbiamo visto 50 milioni di euro entro il 2018, sono quattro anni, quindi comunque parliamo di qualcosa che va su a razzo, per l'appunto. Qual è il problema principale per una start-up? È che di solito il prodotto è una fase avanzatissima di sviluppo, lo vedo anche quando facciamo i panel, cioè magari il prodotto è già pronto, c'è già un prototipo, c'è già qualcosa. Gli altri elementi spesso no. Se siamo qui, le start-up che sono qui evidentemente l'avranno pensato anche al resto. Quindi, il quarto principio, che poi è l'ultimo di cui parliamo, dice che nessuna catena è più forte e il suo anello è più debole. Quindi sostanzialmente, se io ho fatto una catena con tutti gli elementi e il design è un anellone fortissimo, ma gli altri sono molto deboli, è chiaro che nessuno di voi legherebbe la bicicletta con una catena con un anello grosso così e gli altri tipo catenella, per cui ha poco senso. Per cui bisognerebbe che i vari anelli della catena fossero equivalenti tra di loro. Infatti, spesso, anche se il prodotto ha delle qualità, l'anello debole è rappresentato dal fatto che non si è inserito in una logica di sistema. Ecco, secondo me questo qui è la parte chiave. Nel senso, un prodotto non vive da solo su un'isola deserta, quindi comunque, a parte il fatto della produzione, a parte il fatto che deve essere venduto qualcuno, ma si interfaccia con qualcosa. Se ho un'auto, ho bisogno delle strade. Se ho le strade, avrò bisogno delle ruote. Se ho le ruote, avrò bisogno di un cerchione pneumatico, almeno per il momento. Quindi, comunque, tutti i sistemi hanno dei sottosistemi e rientrano a loro volta in un sistema generale. Allora, ho portato un esempio, non faccio nomi perché non è che voglia parlare mai di qualcuno, ma tanto per capire. Questa qui è una bicipieghevole di una start-up, finanziata, vincitrice anche di qualche premio, e si tratta di una bicipieghevole. Allora, dice il suo creatore, abbiamo coniugato le migliori pratiche a livello di design, produzione e assemblaggio, e abbiamo impiegato i materiali più innovativi per creare una supercompatta, leggera e accattivante, che risponde perfettamente alle esigenze della vita urbana. Siamo speranzosi che il prodotto sarà apprezzato. Ora, non voglio fare il marchettaro, perché io mi pongo a metà, però è chiaro che non è che facciamo una cosa e poi speriamo di venderla, facciamo se la inseriamo in una logica di sistema, tanto più se ho una start-up e ho bisogno di soldi e qualcuno deve investire. E dice, non solo dai partiti della bici, che peraltro i partiti della bici, non sono interessati alle bici pieghevoli, secondo me, ma potrebbe essere un parere personale, incoraggerà anche i riluttanti a montare in sella e sperimentare la libertà che il mezzo assicura. Ora, tra gli usi, uno degli usi massimi che viene ventilato è quello di una logica intermodale, quindi arrivo con la macchina, tiro fuori la bici pieghevole e vado a lavorare. Allora, questa qui è la bici. Ora, io qui vedo un problema che già mi sembra complicatissima, vedo un problema di design, nel senso che lei è molto di tendenza e la bici mi sembra meno e soprattutto mi manca una semplice analisi di questo genere che, tutto sommato, dovrebbe essere alla base e mi manca anche una matrice di benchmarking. Cioè, io non ho neanche una minaccia di nuovi concorrenti o di prodotti societani. È pieno di gente che fa la bici, eppure le bici pieghevoli se ne vedono pochissime. Per cui, chi è che me la compra? L'unica domanda da farsi, in generale, allargando, traslando, è infatti, in questo caso, chi compra questa bicicletta e perché dovrebbe farlo, visto che ci sono più di 100 produttori di bici pieghevoli al mondo ed è un mercato di nicchia. Una domanda simile mi dovrebbe dare una risposta, senza contare che chi si orienta al design spesso dimentica che ci sono dei problemi di utilizzo nelle cose, che poi, in realtà, sono uno degli elementi principali. Cioè, io adesso su internet posso trovare consegna gratuita a 159 euro da Decathlon, con un design che personalmente giudico corretto rispetto anche al prezzo, con una cerniera unica, questo prodotto. Ora, uno dei massimi elementi che limita l'utilizzo della bici pieghevole è questa cosa qua. Lei, carina, simpatica, sembra che sia semplice, però la gente non ha voglia di fare questa cosa qua, così come non ha voglia di avere il letto pieghevole, le cose incastrabili, perché è scomodo. E allora, finendo con questo esempio, sarebbe stato più interessante creare un nuovo player di bike sharing. A Milano c'è un player di bike sharing, mentre si stanno aumentando i player di car sharing. Car2Go, per esempio, ha introdotto, la macchina era già nota, ma ha introdotto un sistema innovativo. Ecco, allora, perché non disegnare una bici di car sharing che sia più interessante, più tecnologica, più performante, magari elettrica, e andare a fare concorrenza? Allora, questo ha senso, perché io disegno qualcosa che rientra in un sistema. Quindi, tecnologia, design, innovazione, mi vanno benissimo, ma non ha senso partire da dire che la bici è tecnologica, innovativa, fatta di questo e di quest'altro, se poi non si capisce bene a cosa serva. Fine dell'esempio della bici, ma è una cosa che mi capita spesso di vedere, sia nelle piccole e medie aziende, sia anche in chi presenta un'idea. Allora, segnalo questo sito che si chiama Startup Over, che non vuole essere un sito in cattivo augurio, però, è un sito che parla delle start-up che non ce l'hanno fatta. Allora, normalmente, almeno questa è la mia esperienza, è più facile imparare da quelli che non ce l'hanno fatta che da quelli che ce l'hanno fatta, perché quelli che ce l'hanno fatta hanno avuto il momento speciale, la fortuna, qualcosa, per cui, la ricetta per fallire, diciamo, se uno la segue, fallirà sicuramente. La ricetta per diventare ricco e famoso, se uno la segue, non è detto che diventerà ricco e famoso. Questo, lo conoscete tutti, è un prodotto che di per sé funziona benissimo, va benissimo, è geniale, e semplicemente non si è inserito in una logica di sistema, cioè, all'inizio, il produttore non si è chiesto dove andrà a essere utilizzato. Per cui, paradossalmente, non lo vediamo in giro, se non alle fiere, agli aeroporti, alla stazione, qualche forza di polizia ce l'ha, per un problema molto semplice e abbastanza banale, cioè, nessun governo è in grado di stabilire che cos'è, cioè, è una bici, va targato, è una moto, assomiglia a due piedi, cammina sul marciapiede, quindi, non hanno ancora legiferato, ma da nessuna parte, e quindi, questa cosa rimane confinata. chiaramente, più confinata e meno ne vendono, meno ne vendono, più a un prezzo alto, e quindi, è un peccato, però, non si inserisce una logica. Questo tipo di problema succede anche a livelli molto macroscopici, questo è un esempio di qualche anno fa, non è l'unico, ma è uno dei più quasi comici, per cui, elicotteri russi pagati dagli USA per le forze afghane, qual è il punto? Gli alleati afghani degli Stati Uniti avevano bisogno di elicotteri, gli americani fanno degli elicotteri stupendi, up to date, il massimo della tecnologia, peccato che non si inseriscano nella logica di sistema afghana, cioè, la manutenzione di basso livello, i ricambi che non arrivano, la benzina, il carosene di basso livello, i tecnici che non sono capaci di fare più di tanto, i piloti che hanno bisogno di roba semplice, e il fatto che se atterra e si rompe, in cinque minuti lo si può aggiustare, e invece quell'altro deve essere rimandato in fabbrica negli Stati Uniti. E quindi, paradossalmente, questo qui è un caso in cui il massimo tecnologico riconosciuto mondiale di un prodotto è perfettamente inutile in cui non è inserito in una logica di sistema. Allora, è una certa abbastanza banale, questa lo sanno tutti, però, comunque, citerei a sottolineare che una volta avuta l'idea del prodotto è prima di presentarlo a monte inserire in una logica di sistema, perché altrimenti è molto difficile che se ne cavi qualcosa. Pensare già a un marchio che esprima dei valori chiari, cioè non così al nome, poi dopo vediamo cosa succede, perché comunque il marchio sarà quell'ombrello sotto cui si svilupperà l'azienda. a livello diciamo il benchmarking, quindi sapere chi sono i propri concorrenti, il posizionamento e l'identificazione della tipologia del cliente, cioè le cose abbastanza basiche, e una cosa a cui pensano pochissimi, anche molte aziende grosse, passatemi il termine, un po' ogni 80, toppano, scelta di un design rappresentativo dei valori del marchio al suo stesso livello, non so, un esempio è la Peugeot che ogni tanto fa delle macchine tipo la RCZ o la 406 Coupé che sono di un altro livello rispetto al livello del suo marchio. Questo è un peccato perché significa avere immesso sul mercato un prodotto che non servirà a rialzare, a riposizionare il marchio, altre marchi invece ogni volta che mettono un prodotto sul mercato contribuiscono all'inalzamento del valore del marchio. E poi a Valle comunicare il marchio e i suoi valori dove a Valle non vuol dire alla fine perché comunque la Apple che pure di cui ero un grande fan ultimamente un po' meno ma comunque comunica l'iPhone 6 prima ancora che a copertino abbiano pensato all'iPhone 6 mentre invece tipico è va bene faccio tutto poi alla fine dico che c'è questa cosa. E poi distribuire correttamente il prodotto in particolare per le start up c'è questa tendenza lo vendiamo su internet perché comunque internet in realtà le persone hanno sempre le stesse esigenze base cioè vedere toccare capire e valutare la dimensione per cui non tutto può essere venduto su internet o perlomeno ci può essere necessità di un'integrazione per cui io vedo nello showroom nel negozio fuori e poi so che su internet posso comprarlo. Allora adesso qualche ipotesi qualche idea che è andata a buon fine questa la conoscerete la vedete girare in città lui Matteo Maestri terza generazione della Breda fondatore di Estrima e creatore della Biro allora questa è interessante perché la sua famiglia produce le cabine di protezione e lui partendo da una cabina di protezione visto che in uno spazio ridottissimo ci stavano due persone e inserendosi nella logica di sistema della mobilità dell'ecosostenibilità dell'environment e tutto quello che sappiamo dell'elettricità ha creato questa macchinetta che oltretutto è intelligente anche perché ha un'impronta terra piccolissima ora personalmente io vado a parecchie fiere mi è capitato più volte di vedere sia a Francoforte che a Ginevra cioè nel tempio dell'innovazione dell'automobile marchi come Nissan Audi e Volkswagen presentare dell'elettrica da città con un'impronta a terra tipo 3 smart non ha senso vogliamo fare elettrica in città perché è ecosostenibile perché va nel traffico l'impronta deve essere il minimo possibile un'altra completamente diversa è questo architetto che si chiama Marina Sciarrino che ha creato Petsmood ecco lei si inserisce in una logica di sistema del padrone più il cane single tutti e due quindi una sorta di coppia diciamo interraziale nel vero senso sia la parola per cui siccome c'è questa convivenza stretta allora è inutile che io abbia l'arredamento da uomo e poi le cose da cane che compro in un negozio da cani per cui ho un design che secondo me è anche corretto da un punto di vista di materiale di linee e poi io posso utilizzare il tavolo per lavorare mentre il mio cane sta sotto e quindi siamo sempre vicini e condividiamo ecco lei ha usato dall'inizio un nome anche di brand molto interessante che è Pets Mood che mi dice subito che stiamo sviluppando un'empatia un'emozione di collegamento tra il proprietario e l'animale e poi infine questa che forse conoscerete già che è una macchina fotografica particolare è una start up che in questa volta parte da un brevetto praticamente è una piccola macchina fotografica così con un pulsante solo che mette a fuoco tutto perché misura i raggi luminosi e quindi non il fuoco dopodiché inserendosi correttamente in una logica di sistema io torno a casa in studio mi collego al computer e al computer faccio la postproduzione quindi decido quale parte della foto è a fuoco o meno il design è interessante tipologicamente innovativo si inserisce in una logica easy perché c'è un pulsante solo il prezzo era corretto era 400 euro i colori interessanti le finiture quindi è tutto corretto l'unica cosa che li ho un po' limitati ora ne hanno fatto un altro modello un po' più sofisticato è stata la distribuzione cioè una cosa così è chiaro la distribuisco su internet ma chi è che va su internet? Magari non tutti quelli che vorrebbero utilizzarla e quindi non è stato fatto quello che si poteva fare perché una cosa simile potrebbe essere prestarsi bene a fare degli eventi non so vado in giro la distribuisco e poi faccio un concorso cioè trovo un modo comunicativo e poi dico se la vuoi comprare vai su internet e te la compri allora siamo in dirittura d'arrivo e con tutte queste idee che ho visto ho cercato anch'io magari di farmi vedere qualche idea visto che qua ci sono degli investitori se qualcuno ha voglia di investire la prima che vorrei utilizzare subito è questo per farsi grattare la schiena esattamente nel punto giusto quindi diciamo che si collega è interessante perché cross pollination perché viene dall'idea della battaglia navale quindi comunque c'è stato un pensiero e poi anche logica social perché vado in giro e fermo uno scusami mi puoi grattare in F5 e se è sbagliato F6 sarà quello perfetto quindi colpito e affondato una seconda idea che potrebbe essere utile per stasera visto che saremo tutti stanchi è questo cappello cuscino per cui in ogni momento è possibile appoggiarsi dovunque e dormire ora siccome ho parlato molto di logica di sistema questo non rientra tanto allora c'è un'idea ancora più logica che è questa e questa è la logica di sistema dei commuter quindi abito fuori città in questo caso a Tokyo quindi parliamo di distanze enormi sto un'ora e mezzo sul treno quindi ho questo cappellino da cantiere con questa ventosa e un cartello con scritto svegliatemi quando arrivo alla fermata perché chiaramente se uno dorme senza che la testa cada dorme benissimo per cui diciamo questo rientra in una logica piuttosto interessante bene allora vi lascio con una frase che si riferisce ormai al buffet keep calm and start up grazie a tutti